Ciao e benvenuto o benvenuto in questo nuovo video. Oggi vedremo insieme come utilizzare Google Tag Manager per tracciare lo stato di avanzamento, la percentuale di scorrimento di un video all'interno di una pagina web e passare questi dati a Facebook e anche eventualmente come utilizzarli poi nei pubblici, le targeting eccetera, anche se l'abbiamo già visto un po' nell'ultimo video. Ma prima, sigla! Infatti come dicevo già nell'ultimo video abbiamo visto nella seconda parte del video come impostare i pubblici, cioè l'ultimo video non lo so, l'ultimo video della serie su Google Tag Manager, te lo lascio qui da qualche parte. Abbiamo visto come si utilizzano i vari eventi personalizzati e i vari parametri degli eventi Facebook per creare pubblici, per creare eventi che possiamo utilizzare poi all'interno delle nostre campagne. Oggi a fine video lo vediamo di nuovo, ma prima chiaramente dobbiamo creare questo evento Video Views. Perciò andiamo subito al nostro Tag Manager. Come per il precedente evento dobbiamo attivare alcune variabili, quindi andiamo su Variabili, su Configura e andiamo a cercare quelle relative ai video. Ed eccole qua, io le ho già selezionate a parte Video Provider che non mi interessa, le altre le selezionate tutte per sicurezza. Video Status, Video URL, Video Title, Video Duration, Video Current Time, Video Percent e Video Visible. Cosa significano? Significano che lo stato del video, pausa, fermo, partito o finito. Video URL, quindi l'URL in cui è presente questo video, il titolo del video, la durata del video, il momento, i millisecondi in cui ci si trova all'interno del video, si trova l'utente all'interno del video, la percentuale in cui si trova relativamente al totale del video e se il video è visibile o meno. Quindi ovviamente lì selezioniamo, poi chiudi e salvi questa schermata. Che tipo di attivatore dobbiamo utilizzare? Allora, come al solito io l'ho già configurato, ti faccio vedere. Quindi andiamo all'interno dell'attivatore e c'è proprio un attivatore che si chiama Video, Video di YouTube. Ecco, importante, questo parametro, questo evento, questo attivatore funziona solo legato ai video di YouTube. Perché? Perché Google Tag Manager è di proprietà di Google, YouTube è di proprietà di Google, quindi si possono parlare. Mentre con eventuali altri provider non è detto che funzioni, bisognerebbe ingegnarsi di codice e onestamente non l'ho testato e non ne ho la minima idea. Quindi noi seguiamo quello che ci permette di fare Google Tag Manager, Video di YouTube. Acquisizione, questi settali tutti e nell'avanzamento io preferisco muovermi con le percentuali, quindi di nuovo imposto 10, 25, 50, 75, 90. Dico imposto di tutti perché da miei test vari, se se ne imposta uno solo non funzionava correttamente, talvolta funzionava, talvolta no, si comportava in maniera strana, poi sentendo altri esperti di tracciamento mi hanno detto guarda conviene che li selezioni tutti e poi caso per caso utilizzi quelli che servono. È importantissimo e fondamentale selezionare su avanzate, aggiungi supporto di API JavaScript a tutti i tuoi video di YouTube. Si tratta fondamentalmente di un codicino JavaScript che in automatico Tag Manager va a inserire sui nostri video YouTube nel momento in cui viene caricato sulla pagina, ma gli dobbiamo dire che può farlo. Questo gli serve proprio per poter ottenere e tracciare i dati che ci servono. Altro elemento fondamentale è quando abilitarlo. Infatti se noi lo facciamo sul window load o sul container load, quindi quando viene caricata la pagina o il contenitore del video, non è detto che sia tutto pronto perché possa partire, perché possa effettivamente avvenire il tracciamento. Quello che è ideale è scegliere DOM Ready, cioè il DOM che cos'è? Ora non per fare lezioni di informatica web, insomma di codice web, il DOM comunque è la struttura degli elementi all'interno di una pagina, quindi fondamentalmente i contenitori, i video, i banner, i moduli, tutti i vari elementi che sono all'interno di una pagina web sono all'interno di questo DOM, di questa alberatura che definisce la struttura a livello tecnico. Ecco, noi dobbiamo fare attivare questo attivatore solo nel momento in cui il DOM è pronto e operativo, perché il caricamento della pagina per esempio avviene prima che tutto il DOM sia pronto, quando ad esempio magari ti capi AD, la pagina si apre, però vedi in certi siti, in certi software online, magari vedi che si sta caricando qualcosa, la pagina è caricata ma il DOM non è pronto, sta ottenendo dati dal server e quant'altro, quindi è importante selezionare DOM ready per evitare di perdere tracciamenti o di avere problemi. Per il resto io l'ho messo su tutti i video all'interno del mio sito web, potresti anche fare alcuni video e selezionare la pagina di riferimento con l'URL, eccetera. Adesso chiudiamo, non ho modifiche perché non ho modificato niente e andiamo sui tag. Qua c'è il mio video views YouTube in gelato che è il tag che utilizzo per passare gli eventi a Facebook di questo evento. Come al solito è il template di Simohava. Se non sai di cosa sto parlando vai a vederti il video in cui spiego come installare il pixel di Facebook attraverso Google Tag Manager, altrimenti procediamo. Andiamo su modifica così ti faccio vedere le impostazioni. Di nuovo il nome è custom, quindi gli dico video views, l'ho chiamato io e così lo chiamo sempre. Quali proprietà gli andiamo a dare all'oggetto? Allora, load properties from variable, in questo caso puoi lasciarlo false. Property name, allora che nome vogliamo dare ai nostri parametri che andiamo a passare? Io l'ho chiamato video status, video title e video percent. Poi ti spiego perché ho scelto di utilizzare tutte e tre. Quali variabili gli andiamo a dare? Noi clicchiamo sempre qua, scegliamo la variabile. Quindi di nuovo andiamo su cerca, prendiamo video, e andiamo a mettere su video status proprio quella che indovina si chiama, video status. In video title andiamo a mettere video title, e in video percent andiamo a mettere video percent. In video status noi passiamo se è stato avviato, se è stato fermato o se è stato finito il video. In video title passiamo il titolo del video. In video percent passiamo la percentuale di visualizzazione del video, che poi è il parametro più interessante e importante. Perché gli altri elementi? Perché possiamo anche magari fare un retargeting su solo chi ha avviato i video, senza stare a guardare la percentuale. oppure video title può essere utile per filtrare solo su alcuni specifici video, se ci interessa per esempio. Anche se preferisco poi io lavorare per filtro a livello di URL, perché bene o male so quali video ci sono all'interno delle pagine. In more settings non impostiamo niente, neanche le impostazioni avanzate. Fatto questo, ovviamente dobbiamo dargli l'attivatore giusto, che è il nostro video views che abbiamo appena creato, possiamo salvare e aggiornare il nostro tag manager e fare invia, come al solito, delle modifiche. Che effetto abbiamo? Abbiamo questo effetto qua, ora la pagina è caricata da un po', comunque qua ci sono tanti video views perché c'è un video in loop e quindi per forza di cosa a me li traccia tutti, però vedi che c'è video title, video sfondo in celato, video status start, video percent zero perché era il primo, se vado a prenderne altri, video percent 10, video 100, ecco status completato, ecco qui. Se io vado a scegliere un video, ok, tipo qua ho delle video testimonianze, ecco che è appena scattato un altro e come vedi si aggiornano, dov'è qua, ok, sono sopra in realtà, visto qua è pausa, qua il titolo testimonianze eccetera, percentuale 5, ora se io lo riavvio, nuovo video views, quindi video percent 23, video status sick, quindi in visione, testimonianze eccetera, insomma, questo per farti vedere il comportamento e nuovamente, se noi andiamo al nostro gestione inserzione, ma in quanto siamo nei pubblici, se noi facciamo crea pubblico, pubblico, personalizzato, facciamo sito web, abbiamo il nostro pixel, scegliamo l'evento video views, lo perfezioniamo in base al parametro, possiamo scegliere il titolo del video, la percentuale o lo status, e quindi possiamo creare dei pubblici personalizzati, che ovviamente possiamo anche fare una cosa del genere, quindi percentuale contiene superiore a 50, quindi chi ha visto più di metà dei video, e perfezioniamo ulteriormente in base, no, facciamo e anche, url contiene, non lo so, social, social bla bla, e ipotizziamo che abbiamo un url, che abbiamo una pagina che si chiama in questo modo, con questa configurazione andiamo a prendere le persone che hanno visto almeno il 50% del video negli ultimi 30 giorni all'interno di quella pagina web, questi per darvi qualche idea di virtuosismi, di pubblici che possiamo utilizzare ovviamente per fare dei retargeting avanzati sempre di più, e molto molto specifici, chiaramente ha senso fare queste cose nel momento in cui abbiamo tanti numeri, ti ricordo che il retargeting su Facebook può partire, cioè o meglio una campagna su Facebook può partire solo se nel pubblico ci sono almeno 300 utenti, quindi vuol dire che abbiamo 300 persone che hanno fatto, hanno visto almeno la metà di questo video, se lavori con 2 euro al giorno in pubblicità di front end non ha alcun senso, se invece hai tanti utenti, spendi tanto, hai un traffico di un certo tipo, hai un funnel che funziona, allora questo ti può permettere di andare a fare dei tracciamenti veramente veramente mirati all'interno del tuo sito web e ti può permettere di fare delle attività di comunicazione e di marketing molto specifiche, esempio pratico, webinar, hai un webinar, puoi andare a tracciare le persone che hanno visto il 50%, almeno il 50% del video, ma non hanno lasciato il lead, ma non hanno visto il 75%, quindi prendiamo quel 25% e non hanno finito, non hanno visto la call to action, per esempio, e possiamo fargli delle comunicazioni per riportarli all'interno del webinar o per riportarli a ottenere il lead, per esempio una persona che si è vista il 75%, il 90% di un webinar da un'ora, ma non ha lasciato il lead, potrebbe essere interessante fargli un'offerta particolare, mettere più urgenza, dirgli scrivimi in chat, insomma qualsiasi cosa, perché? Perché è una persona che ha dedicato un sacco di tempo, ma che non ha convertito per qualche motivo, noi andiamo a individuarlo in maniera veramente chirurgica e gli facciamo la nostra proposta. Chiaramente, ripeto, tengo una serie almeno 300 per poter far partire queste pubblicità, quindi si parla di attività, di funnel ben strutturati, con un buon traffico e quant'altro, ma che, diciamo che, se vuoi diventare un marketer, proprio queste sono conoscenze che ti sono molto utili e che puoi utilizzare per affinare tutto quanto, ovviamente, oltre al pubblico personalizzato, puoi anche crearti le tue conversioni personalizzate, esattamente come abbiamo visto nel video precedente di questa playlist. Spero che queste indicazioni molto tecniche, chiaramente, e piuttosto avanzate, ti siano utili. Comunque, col tempo le apprezzerai sicuramente, perché sono effettivamente molto, molto avanzate. Lo ripeterò, ma perché, cioè si vede, non è la roba banale che ti insegnano nei corsetti in giro. E io ho deciso di mettere a gratis su YouTube, perché credo che, dalla condivisione, possano nascere molte, molte più cose interessanti rispetto al venderti un corso, sui tracciamenti, bla bla bla, almeno per ora. Poi se un domani lo tolgo e te lo metto a pagamento, è beate chi l'ha visto gratis. Scherzi a parte, se hai delle domande, lasciami ovviamente un commento, ma soprattutto, se ti è utile, condividilo con i tuoi colleghi marketer, perché mi aiuti a far crescere il canale, e mi dai un incentivo per fare anche video tecnici di questo tipo. Metti mi piace al video, iscriviti se non sei iscritto, e attiva la campanella, perché questo appunto mi aiuta a far crescere il canale. Io dal canale comunque ci monetizzo, e arrivano anche i clienti e quant'altro, quindi c'è un perché sto facendo questi video, ma è tutto nato in realtà in origine, proprio perché ci tengo alla condivisione. E se l'hai apprezzato, condividi perché sarà utile ad altre persone. Per il resto noi ci vediamo al prossimo video, e ti auguro un buon business. Ciao.